Musica Amici e amiche di Volonbrite, buonasera, siamo ai dialoghi sulla salute. Oggi abbiamo parlato di sport, inclusione e disabilità. Con noi abbiamo Silvia Bruno, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Piemonte. In particolare, quanto Torino è influente e partecipe per le iniziative sportive paralimpiche e quali saranno possibili iniziative future? Torino e il Piemonte sono uno dei territori che in Italia hanno più dato e continuano a dare in ambito paralimpico. Torino 2006 sicuramente ha dato un grandissimo slancio allo sport per persone con disabilità, anche se già da prima esisteva un movimento molto folto e molto partecipato, di cui Patrizia ha fatto parte fin dall'inizio, per esempio. Però le cose continuano, si evolvono, con la nascita del Comitato Paralimpico, soprattutto con il riconoscimento del CIP come ente pubblico, le cose sono molto cambiate, nel senso che ora noi siamo un pezzettino di Stato, quindi questo significa che risorse economiche arriveranno automaticamente da parte dello Stato e quindi sarà forse un pochino più facile coordinare e armonizzare tutti i movimenti paralimpici che ci sono in Italia. Tornando al Piemonte, si è svolto nell'ultimo weekend il campionato italiano di boccia paralimpica, che è uno sport adatto soprattutto a ragazzi con disabilità motoria molto importante, grave, e poi anche un torneo internazionale di tennis in carrozzina, quindi eventi internazionali e eventi nazionali. Nei prossimi mesi organizzeremo delle attività soprattutto per gli assistiti dell'INAIL, con cui il Comitato Paralimpico ha una convenzione in modo da avvicinare le persone che hanno avuto un infortunio col lavoro allo sport. Faremo due giornate promozionali, una di tiro a volo e una multi-sport, in cui faremo provare il tennis tavolo con Patrizia, il tennis in carrozzina, la boccia paralimpica e il tiro con l'arco. E poi spero, entro la fine dell'anno, di uscire di nuovo ad organizzare dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti, perché se non sono gli insegnanti i primi a essere sensibilizzati a scuola, è poi difficile che anche gli alunni con disabilità possano fare sport. Grazie mille. Inoltre abbiamo Patrizia Saccà, campionessa paralimpica di tennis da tavolo, attuale insegnante di yoga. In merito alla sua esperienza comunque di grande rilevo, quali potrebbero essere possibili suggerimenti, indicazioni per ragazzi e ragazze che volebbero intraprendere questa esperienza? Quale tipo di esperienza? Dello sport nel settore paralimpico. Ma persone che hanno una disabilità? Eh beh sì, certo. Noi abbiamo questo comitato, che è un comitato paralimpico piemontese, per cui comunque c'è una pagina, ci sono tutti quanti gli indirizzi, ci siamo noi che nelle scuole portiamo, quando andiamo nelle scuole portiamo l'esempio in qualità di atleti, c'è il passaparola, perché comunque poi alla fine la cosa che funziona sempre è il passaparola, almeno per me ha funzionato così e ho visto che anche per tanti altri. Torino è molto riconosciuta da questo aspetto, per cui comunque tutte le persone facilmente riescono a capire dove andare per fare quel dato sport, il nuoto piuttosto che le bocce, piuttosto che il tennis. Per cui i suggerimenti da dare sono quelli di voi giornalisti, siete quelli che, no? Cioè il fatto che noi adesso in questo momento stiamo dando una testimonianza, questo è una possibilità. Grazie mille. Inoltre per Ingegno Calcio abbiamo Cesare Procacci, cosa ci potrebbe illustrare, in cosa consiste il progetto Ingegno Calcio? Allora, Ingegno Calcio parte inizialmente come un torneo indoor di calcio 5, che per motivi diciamo tecnici abbiamo aumentato a 6, per dare più possibilità a tutti i partecipanti di poter ricavarsi uno spazio e di poter partecipare attivamente. Poi ci siamo allargati al Calcio 11, partecipando al torneo Wisp di Cuore Matto. Quest'anno, come dicevo, abbiamo fatto ancora un salto di qualità iscrivendo una formazione dei migliori al torneo FGC in prestito sotto il torneo FD. Questo è stato un anno zero, perché per vedere se siamo in grado, magari in futuro, di partecipare con una rappresentativa proprio di Ingegno sotto l'effigie del Comune. Una cosa che ci tengo moltissimo a ricordare è Nessuno Escluso, che facciamo con le scuole. È un bellissimo torneo misto, dove sono invitati tutti gli istituti di scuole superiori. Attualmente mi viene in mente il Boselli, ma sono stati lo Stein e piuttosto che altri istituti. È tanto bello quanto è difficile organizzarlo, per i motivi che hanno citato le colleghe, però penso che quello lì sia il futuro. Cioè è fondamentale partire dalla contaminazione, io lo chiamo più che aggregazione, contaminare il cuore dei ragazzi e se si può anche degli insegnanti. Grazie per la disponibilità, alla prossima!